Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova videosintesi di scienze. Prima di vederla ricordo a tutti di iscrivervi al canale La Scienza in un click e di attivare la campanella delle notifiche. Si intende con idrosfera l'insieme delle acque presenti sulla superficie terrestre in forma liquida e solida. Si tratta di una quantità enorme di acqua, grazie a cui la Terra ha vinto il soprannome di pianeta blu, di cui però solo una minima parte è utilizzabile dall'uomo. Innanzitutto, la quasi totalità dell'acqua liquida presente in superficie è l'acqua dei mari e degli oceani. Quest'acqua è salata e quindi non può essere utilizzata né per bere né per altri usi da parte dell'uomo e la dissalazione dell'acqua di mare su larga scala non è conveniente dal punto di vista economico. Di quel 3% di acqua privi di sali, ovvero dolce, la maggior parte è immobilizzata in forma solida nei ghiacciai e nelle calotte polari e anche questa non è utilizzabile dall'uomo. Meno di una parte su tre è infiltrata nel sottosuolo, è acqua sotterranea ed è questa l'acqua dolce che viene estratta e utilizzata dall'uomo. La piccola parte restante scorre o si raccoglie in superficie. L'acqua dolce in forma liquida in superficie, solo lo 0,3% di quel 3% totale è contenuta prevalentemente nei laghi e negli stagni e solo in piccola parte nei corsi d'acqua superficiali, ovvero nei fiumi. L'acqua presente sul nostro pianeta subisce continuamente, sotto i nostri occhi e senza che ce ne accorgiamo, una serie di trasformazioni che consistono soprattutto in una serie di cambiamenti di stato d'aggregazione, muovendosi continuamente dall'atmosfera all'idrosfera. Questi insieme di cambiamenti e spostamenti di masse d'acqua tra atmosfera e idrosfera sono noti complessivamente come ciclo dell'acqua. Il motore del ciclo dell'acqua è l'energia solare che riscalda e fa evaporare l'acqua dalla superficie di mari ed oceani e in misura minore dalle raccolte d'acqua dolce in superficie. Il vapore acqueo così prodotto sale in quota e condensa formando le nubi, da cui l'acqua torna liquida e ricade a terra come pioggia. Solo una parte però di essa ricade come pioggia sopra i mari e gli oceani, buona parte ricade come pioggia sopra le terre emerse anche se proviene dall'evaporazione dell'acqua marina. Gli oceani non evaporano completamente perché l'acqua trasferita sulle terre emerse come pioggia va ad alimentare i corsi d'acqua superficiali tramite cui ritorna al mare. Parte dell'acqua piovana si infiltra nel sottosuolo e va ad alimentare le falde acquifere sotterranee. Anche quest'acqua presto o tardi si muoverà attraverso il terreno tornando nei mari o riemergerà confluendo nei fiumi. Anche il ruolo degli esseri viventi, soprattutto delle piante, è fondamentale nel ciclo dell'acqua e se assorba un'acqua liquida dal sottosuolo tramite le loro radici, questa sale fino alle loro foglie dove evapora e viene restituita come vapore all'atmosfera. Anche l'acqua solida dei ghiacciai, seppur più lentamente, rientra nel ciclo. Parte del ghiaccio si scioglie durante la stagione calda e durante quella fredda se ne accumula di nuovo in forma di neve. Le acque di mari ed oceani, come detto, sono salate. La salinità delle acque marine si esprime in grammi di sali per litro d'acqua. Altra caratteristica importante è però la temperatura. Questa carta rappresenta la temperatura, vediamo, delle acque di mari ed oceani. Come vediamo, questa ricalca quella delle isoterme dell'aria atmosferica, grosso modo. Infatti è massima nei mari equatoriali e decresce via via verso i poli. Inoltre la temperatura delle acque diminuisce con la profondità, con qualche eccezione. Ad esempio, le acque profonde del Mediterraneo sono meno fredde rispetto a quelle del vicino Atlantico e il Mediterraneo, in generale, come possiamo vedere, ha acque più calde rispetto all'oceano confinante. Questa carta rappresenta la salinità. Quella media delle acque dei mari terrestri è di 35 grammi di sali per ogni litro d'acqua. Come vediamo dalla carta, ci sono però delle variazioni significative. Ad esempio, le acque delle zone tropicali sono decisamente più salate rispetto a quelle dell'equatore. Perché? Perché nelle zone tropicali il clima è caldo e piove poco. Infatti, in corrispondenza di questa linea, abbiamo dei deserti sui continenti. Quindi l'evaporazione è alta e i sali si concentrano. All'equatore le temperature sono alte, ma è anche alta la piovosità e quindi i sali sono meno concentrati, le acque sono più diluite. Inoltre, l'oceano Atlantico vediamo che è più salato rispetto al Pacifico. Ci sono poi delle altre eccezioni, come il nostro Mar Mediterraneo, che è un mare molto più salato rispetto a quelli alle stesse latitudini, è uno dei mari con la salinità più alta del mondo, mentre invece a nord c'è il Mar Baltico. Eccolo qui, un altro bacino chiuso, che invece ha una salinità molto bassa e quasi fatto di acqua dolce. Da dove deriva la salinità delle acque? Intanto all'apporto di minerali solubili da parte dei fiumi e poi anche e soprattutto dalle eruzioni vulcaniche sottomarine che liberano una gran quantità di minerali di sali solubili nelle acque. Una caratteristica molto importante delle acque marine, soprattutto per la presenza di vita vegetale che dipende dalla luce, è la trasparenza, ovvero la profondità massima a cui la luce riesce a penetrare. Questa al massimo pari in acque molto limpide a 200 metri. Si misura col disco di secchi, un disco legato a una corda che si lascia andare in acqua e si blocca, rilevando la profondità a cui lo vediamo sparire, che sarà minore in acque torbide e maggiore in acque limpide. C'è inoltre da dire che diversi colori che formano la luce penetrano fino a profondità diverse. Il rosso e l'arancione vengono assorbiti già nei primi metri di profondità, mentre invece le lunghezze d'onda sul blu-verde penetrano molto più in profondità. Come vedremo, questa avrà importanza per la vita vegetale nelle acque marine, per i colori delle alghe. Le acque di mari ed oceani sono animate da tre possibili tipi di movimento, di tipo ed origine diversissima, il moto ondoso, le maree e le correnti marine. Le onde sono movimenti irregolari che riguardano solo la superficie del mare e sono prodotte dal vento. La forza del moto ondoso dipende dalla velocità, dalla direzione del vento e dalla distanza lungo cui agisce. In un'onda possiamo distinguere un punto più alto, chiamato cresta, e un punto più basso, che si chiama invece il ventre o cavo d'onda. La distanza fra due creste successive è la lunghezza dell'onda, mentre la distanza in verticale tra cresta e cavo o ventre sarà l'ampiezza dell'onda. Il moto ondoso in mare aperto non comporta spostamento di materia, perché le particelle dell'acqua compiono, come si vede, dei percorsi circolari chiusi tornando al punto di partenza. Questi percorsi circolari si smorzano e diventano sempre più ridotti andando in profondità. Fino a che a una profondità pari a metà della lunghezza dell'onda, questo tipo di moto non si avverte più e il mare al di sotto di quella profondità sarà tranquillo. Arrivata a riva, a profondità inferiore a mezza lunghezza dell'onda, l'onda stessa perde equilibrio e si infrange, perché le particelle in profondità fanno attrito col fondale e risultano in ritardo. Quindi a questo punto a riva abbiamo anche uno spostamento di materia, il frangente. Serpentoni di questo tipo, già attivi in più zone del mondo, sono in grado di ricavare energia elettrica dal moto ondoso, una fonte alternativa pulita e rinnovabile destinata ad avere sempre maggior rilievo in futuro. Strutture simili possono ricavare energia anche dalle maree. Le maree sono invece movimenti regolari e periodici che consistono in innalzamenti e abbassamenti dell'intera superficie marina. Le loro cause sono astronomiche, ovvero sono prodotte dall'attrazione di gravità che la Luna, in misura minore il Sole, esercita sulle masse liquide del nostro pianeta. Nel corso della rotazione della Terra intorno al proprio asse, che dura 24 ore, ogni punto della superficie della Terra sarà, una volta nell'arco di 24 ore, nel punto più vicino alla Luna. A quel punto sarà più forte l'attrazione che la Luna esercita sulle masse d'acqua e quindi in quel punto che culmina sotto la Luna, in quel momento si avrà alta marea. Nello stesso momento avremo un'alta marea detta indiretta anche nel punto opposto del pianeta, a 12 ore di distanza, perché lì le masse d'acqua tenderanno ad allontanarsi dalla superficie a causa della forza centrifuga che fa fuggire dal centro di rotazione dovuta alla rotazione terrestre. Nei due punti esattamente intermedi, in alto in basso, in quegli stessi momenti avremo una bassa marea. Quindi le maree sono solitamente semidiurne, ovvero ne vediamo due al giorno, a 12 ore di distanza, intervallate da altrettante basse maree. Le maree non hanno sempre la stessa ampiezza, perché l'effetto del Sole può aggiungersi a quello della Luna, anche se ha meno importanza perché è molto più lontano da noi. In alto vediamo che nella fase di Luna nuova, ma quella di Luna piena è la stessa cosa, in cui Sole e Luna sono allineati alla Terra, tirano le masse d'acqua dalla stessa parte e quindi avremo delle alte maree più ampie, che si chiamano maree vive o maree sigiziali. Quando invece Sole, Terra e Luna formano un angolo retto, quindi quando la Luna è in fase di primo-ultimo quarto di quadratura, Sole e Luna si oppongono e tirano in direzioni diverse le masse d'acqua. In questa situazione avremo le cosiddette maree morte, quindi meno ampie del normale come alta marea, dette anche maree delle quadrature. In alcuni posti la differenza tra livelli del mare durante alta e bassa marea è notevole. Qui vediamo il promontorio di Mont Saint-Michel in Normandia sulla costa atlantica francese e vediamo che durante l'alta marea è praticamente un'isola, mentre durante la bassa marea è raggiungibile via Terra. Le correnti marine sono movimenti regolari e costanti di grandi masse d'acqua che scorrono accanto, sopra o sotto le altre a causa di differenze di densità, a loro volta dovute a differenze di temperatura e salinità tra masse d'acqua confinanti. Più raramente sono causate dai venti, laddove sono costanti avremo le correnti superficiali e possono avere una grande influenza sul clima o l'economia di intere regioni o nazioni. Questi enormi spostamenti avvengono perché l'acqua meno calda e salata è anche meno densa e più leggera rispetto a quella fredda e salata che è più pesante e rimane in profondità. Quindi quest'acqua diciamo più calda, più leggera, calda e meno salata tende a muoversi sopra la restante massa d'acqua e ad andare a mescolarsi con l'acqua dalle caratteristiche diverse per tornare in condizioni di equilibrio. L'equilibrio viene poi di nuovo spezzato dal calore del Sole che riscalda in modo diverso le varie zone della Terra e che rigenera la corrente marina. Vediamo, questa è la carta mondiale delle correnti marine che possono essere calde, rappresentate in rosso, o fredde, in bianco, orizzontali o verticali, superficiali o profonde. Notevole questa corrente fredda che andiamo subito a vedere che arriva direttamente dal Polo Sud e che investe le coste del Cile e del Perù. Questa determina una risalita di materiali nutritivi per i pesci e dunque un'elevata pescosità dei mari di quelle zone, quindi un'importante influenza sull'economia della costa pacifica del Sud America. Ancora qui vediamo la corrente del Golfo, questa corrente calda che viene dal Golfo del Messico, superficiale, che investe le coste atlantiche del Nord Europa, delle isole britanniche, della Norvegia, dell'Islanda, determinando il clima mite piovoso tipico di queste zone, che in sua assenza avrebbero un clima gelido e più secco. Se questa dovesse bloccarsi a causa dello scioglimento dei ghiacci, le conseguenze per il clima di gran parte d'Europa sarebbero disastrose. Per chi vuole vedere la video-lezione completa, link in descrizione o nella schermata finale. Ciao a tutti e alla prossima video-lezione!